Abbiamo riflettuto molto a dire il vero se in un momento così vicino purtroppo a quegli eventi drammatici che hanno caratterizzato la nostra comunità fosse il caso di fare una festa. Poi abbiamo pensato che forse sì era il caso di farla, forse anche per raccogliere quello spirito che ha caratterizzato quei giorni di solidarietà, di coesione, di identità e quindi abbiamo cercato di abbinare il momento della festa a quello spirito mettendole insieme e facendo qualcosa che riprendendo quello spirito si ricordasse di coloro che in quei giorni hanno avuto delle difficoltà e che ancora le hanno e quindi abbiamo finalizzato ad un contributo e speriamo sia significativo alle vittime dell'alluvione questa festa, sperando che sia quindi un momento di auguri ma anche di solidarietà.